Ciao a tutti ragazzi bentornati su Neverwinter finalmente dopo tanto tempo in compagnia di wide adesso ricominciamo la serie ve l'avevo detto nel primo video di minecraft del powercraft cosa? eh vabbè capisci l'orario eh capisci mi ha costretto con forza ragazzi eh sì l'avevo detto che lo prendevo per i capelli a rigettare Neverwinter l'ho fatto non per i capelli per la distanza sei troppo lontano da casa mia eh 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 molto lontano comunque dobbiamo fare la missione cioè vai al tunnel in ruin facciamo questa qua e direi che... e poi perché è troppo tardi impasto perché guardi questa sbadiglia eh pfff sono becchi che vuoi hehehe ho già fatto quell'altro video mamma dove stiamo andando? abbiamo sbagliato la strada lol 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 cazzo adesso resto secondo te ma su segui me io mi perdo anche a casa mia oh nel sd cazzo è successo? va bene il mio gioco tenda pazza perché la tastiera sta a me a morire che bello se non farò video ragazzi per coppare la tastiera di merda no devi fare lo stesso oh come lo faccio senza l'annata stiera? l'annata stiera? vai dai cinesi cinque euro allora entriamo nella missione io ho messo il timer però calcoliamo che è finito il dungeon la quest finisce anche il video perchè non sappiamo quanto dura relativamente ora faccio le mosse così a random ragazzi non vedete come ma vabbè tranquillo trottola trottola io posso 106 iscritti ragazzi non so come fate voi iscrivervi come... ora hai visto che parlano adesso con gli aggiornamenti i personaggi? no io veramente stavo pensando ai miei iscritti stavo dicendo una cosa che mi toppe la poca feste ma l'hai detto che uno mi ha commentato una cosa interessante che non sapevo dicendo le cose ma andrei che l'unisco lì o no non ho capito bene il commento ma vabbè poi capirò si domani se se c'è tempo che cazzo si fa come si faceva mi ricordo bene shift f1 lo tengo io si fidati vediamo cosa c'è qua è un po' non mi ricordo i tasti perchè è un po' che non giochiamo beh perlomeno io sto nerdendo troppo come minecraft e fare video su minecraft eh eh l'avevo detto su un video che minecraft se mi potte iscritti facevo sempre video su minecraft ahia mi ho colpito ogni tanto cambiamo quindi domani farò... non lo vediamo non lo dico se volete cosa volete vedere me lo commentate sotto no non commentate si iscrivetevi al canale se di Alien 4 nooo anzi a te non mi piace qui c'è un fortiere e questo è un boss prendi tutto qui sei già andata avanti a combattere eeeh lo sai ma mica che... non hai ragione tu non aspetti non vai cammini ma te lo congelo non è che io non lo aspetto tu sai che in stretto radio non sono più wild sono un'altra persona hai ragione c'hai withy ahahahah ahahah tu prendi li io prendo io prendo io prendo io prendo tu prendi li prenda si tu hai spostato sta cosa però non prendi il fazze braaaavo oh ok adesso arrivo sei buono ma che ballante hai fatto ma che cosa hai fatto questo no adesso lo l'ho fatto c'erano dei netto qua guarda sei fottuto l'alzi di netto e mi sto curando dai io tra neverwinter e ion ero con i calderoni e fatto un po' dai netto ti fai una mare a te i calderoni ahahahahah cosa mi ha dato aspetta 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 che c'ho mi sono di ferita La cintura è uguale, cazzarola Eh, ma è già finita? Si è già finita, ne facciamo una No, perché ho fatto rifiuta? Perché sono un cretino Oh, a livello 5 GG Oh, allora, hai nuovi poteri Ecco Ecco cosa? Ah no, niente, speravo, pensavo che si si Facciamo, fontana di ghiaccio Potente arrabbi Ok E questa qua Mestiamo Ha già messo in automatico, vabbè, vabbè Poi i talenti Non me li fa uppare Quindi niente Siete uscito? Si Che bastardo Ah, le facciamo un'altra Un'altra quest Un'altra quest Come facciamo un'altra quest Non vi parli Noi ritorniamo là Muoviti, ritorniamo là Eh, se mi carica Ogni volta che carica la mappa Questo fa il patching Se non piace la serie ragazzi Comentate Fuck you bitch Tanto tu vai avanti Io vado le versioni qua Io vado bene Che io vado Io poi Sì, sì Di quanto dico c'è Ecco Ora i miei 106 iscritti Si iscrivono nel tuo canale Così tu ne hai di più E vabbè E vabbè niente Non prendete un po' le palle Alla lui Oh ma sempre Quando registro Mi viene Mal di gola Vaffanculo Io non commento Eh bravo E' meglio Perché salti? Non sei un canguro? Caccia la corona Facciamo sta corona di mierda No Allora questa l'ho fatta Completa impresa E facciamo caccia alla corona Ecco Dopo la caccia alla corona Guardi fa caccia al letto Ok Dove dobbiamo andare di qua sempre Dai Alla caccia del letto Yeee Alla caccia del letto Letto No letto Cazzo dice Letto Lettuccio mio Ma che Io vado di goccio Prima Faccio prima Se mi dirò di me Se mi va bene Eh perché tu corri Ti sei bloccato Perché salti Ammuzzo Mi scende prima Le scoffe Troppo minecraft Mi dispiace Dopo minecraft No troppo minecraft Dopo minecraft Io sto dopo a lui Io sto benissimo Io sto benissimo Non dormo stasera After 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 Niente Facciamo After Tu lo fai con me Che? Tu fai after Con me Che stup Come cos'è Quest'after Io non Ne Intendo Eh Questa dava la missione La prendiamo da questo Eh prendiamo da Ma che sta Alla Non so perché Ma vabbè Eh perché sta caricando Alla ricerca di un sospetto Alla ricerca di pepello Questi vendono una roba Abbiamo qualcosa da vendere O vendiamo off camera Off camera Vendiamo Vendiamo Demo Facciamo sta missione Scusa Cosa la faccia qualcuno Oggi Ammugine 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 Caminiamo Come mi hanno detto i miei video Mi hanno detto che la mia voce si sente pieno Ma il microfono Che fa cagare Vendiamo la coppa mia Oh Cavaglio Uuu Animale Eh sparite da qua Sì Guai il pregatino L'hai spadata a buono Eh c'è stato un po' di live Ho visto tutte cose bianche Allora questo è uno Mi pare No Dov'è È qua per terra Attivo Il cadavere Ma sono cadaveri Ah Hai scoperto È qua di cadaveri Eh Perché sono Eh Allora Andiamo qua Dov'è Questo è un cadavere di me No non è un cadavere Un guaderno Due guaderni Su due Hai trovato un indizio L'altro indizio è da questa parte Non correre Io non posso correre Uffi Io posso solo Teletrasportarmi A te tu uccide perché non mi sei simbatico Tanto Wild raccoglie la roba Io killo i mob E faccio sperare I mob No di qua No Ah è vero che i soldi sono condivisi L'XPA Condivisi Abbiamo andato il forza qua dentro Dove c'è ogni tipi Dove c'è Wild Che sta combattendo Io non combatto E rubo le casse Lasciamo Wild Wild da solo Wild impapido Beh vada Arrivo date la mano Solo perché Certo Ho già vado a finire io Guardate che Mi metto Tutto in mezzo Kit Dungeon Kit Dungeon S'è rotto A più becci Sì che me lo me l'ho fatto io Ma fa cura Mi hai rubato Ok torniamo da Ma quanta vita Prima o poi morirà Ah 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 Prima o poi morirà sto cazzo Ecco il problema di Wild Ogni volta che fa video con Alien Non c'è che titolo mettere poi nei video Ah E qui ti voglio Riparliamo con questo scemo 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 Con l'armatura brutta 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 Completa l'impresa I ratti morti I ratti morti I ratti morti Ti vai del sapropoli Ok mi dai un'altra missione o no non mi da più niente E suona quando i minuti finiscono intanto Non c'è ancora vuoi Questa che fa? Ah Rubare i poveri Ok Rubiamo i poveri per dare a noi stessi Dove sei? Questa 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 Allora con questa Rubare i poveri Ma dove? Da chi fa lì? La vecchia La mia mamma fa la vecchia Ti ricordo che non siamo la stessa razza Aspetta 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 Che forza te la posso condividere Condividi condividi Ehm Com'è che si faceva? Non mi ricordo più Con la J La J La J I ratti morti No Rubare i poveri Condividi Ti è arrivata? Si No Non rubare i vivi Ehm Morti Ehm Vabbè Rucupera la merce rubata dai ribelli Dovrebbe essere più corta Che le fogne di Black Lake Così dopo Possiamo chiudere qua Ecco Io rubo I beni rubati Ehm Poi Ci siamo cambiati i posti Va bene Eh A te Ti congelo Subito Ahia Mi ha dato una pizza Quello che mi ha fatto male Ragazzi commentate sempre i video per favore Così sappiamo che siete vivi E sappiamo cosa vi piace Cosa non vi piace Eh si Poi consigliate Così almeno Siete partecipi Anche voi Volete un libro Noi Facciamo un clan Come volete voi Basta che vi fate vivi Sì Sì Wilde Gioca con alcuni dei suoi iscritti sul server Della Pokéworld Eh Gioco Diciamo Lì Meglio che non Dico Vabbè Ti passi il tempo Sì Sì Allora Aiuto 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 Mi sono spawnati davanti alla faccia Dei coglioni Mi faccio rosicare Oh Mi è sto stronzo È arrivato uno con un arco E ne ha shottati i quattro con un colpo Anzi Mi hai fatto ricordare che domani Devo andare alla ricerca Di un Bastardo Figlio di 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 Buono Sì Ma dove 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 Non lo so Dove Spona Ivi No Cacendo Ivi Padonna Sto Parlando Tu Qua Lui Penso Ivi Missione Completata Completata L'impresa Livello 6 È La Vecchia Questa Non è Completata Hai Guadagnato Questa Si È Il vecchio Qui Il Cosa No No Le Ratti Di Black Lake No Black Lake Black Andiamo alle fogne E poi E poi Basta Noi Viviamo Alle fogne Sì Dopo Dove Sei Sto Andando alle fogne Ma dov'è Oh ma Mica che mi aspetta Guardate Che Che Nabbo Mamma mia Io Sono Nabbo Dunque Sei lento Mamma mia Eh ma Io Sono A livello 6 Sto Troia Io L'accetto Per la Prostima Puntata Dopo 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 Arrivo Arrivo Aspetta Che Ho Tre Coglioni Davanti La Sì che c'è una prossima puntata Perché Neverwinter Do or in poi uscirà Il martedì e il venerdì Sogna No Sogna niente Tempo Yeah Tempo Yeah No Non è il tempo È la batteria scarica LOL Tempo Batteria scarica Basta Dai Manca Un minuto e quaranta Entriamo nel dungeon E stacchiamo il video Ragazzi Non posso denunciare Per stalker Ma che per stalker Ma stai zitto Stalking Guarda come si fa Oh ma ho sti topi giganti Oh Eh Sto apparendo Di chi saprei io Di chi Eh Facchi Eh Eh Facchi 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 Allora posso dire Poi faccio pubblicità A loro Quindi no Ma che pubblicità Che vuoi fare Ma stai zitta Zitta Sei tu Traia Ma si ma Che è tutto sto macello Perché stiamo continuando Dovevamo vendere Basta Ma l'ha detto Qua Stalking Vai 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 Shotta 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 In bagno Si fa la shot Ok E' un asino Io ho 11 shot Papapapapapam Dragon Ball GT Braga Non ti colpi Eh ma faccia Uno scrigno Vai Non lo vede Non l'ho Non l'ho Vista Prima di Test Trans Ora Oh E' finito Il tempo Lamenterai Se almeno Fammi ammazzare Ammazzare Ammazziamo Sto mostro Oh merda Sto maledio Curati Curati Oppure finiamo La quest Buon Ripeto Vediamo Ci conviene Finirla Se no Ci tocca Ricominciare Da capo Eh Finiamolo La quest Trollato Trollato Sto cazzo Vuole fare Fare lab Sto ragazzo Sta Anche il piccolo White Poverino Eh Sapessi Ho ripreso A giocare A Marelin Sss Vado a dire Eh Colui Che diceva Che a Meeting Non giocava Più Ah Che puoi Ricominciato a giocare A meeting Chissà se registerà Qualche episodio A meeting 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 Eh vabbè Chi se ne frega A me non mi piace Io non le farò video a meeting Troppe serie No Vai No 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 Non rompe Beh tipo Tipo questo Meeting 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 Come cazzo si chiama Come scusa se non ti piace come ti dice come questa Eh 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 Io ho visto i video non mi piace Eh visto i video non conto con più conto giocacci Sì è vero Sì è vero Sì è simile a Neverwinter D'ion è già abbastanza questo Aia Fa Fa Bego Aion No Superg penso come questo che può combattere più personaggi Sì Meglio che mi curo un po' perché mi stavo per ammazzare Hai capito? No Come Aion no che combatte solo con un mostro Sì c'è fatto Qui perlomeno combatte più di uno Quindi quello pure più di uno Lì puoi fare due gruppetti Ah Hai visto? Non c'è già il giocato Non lo faccio con E che ti sto dicendo di farlo? Ci mancava Devo Già è diventato difficile Dopo hanno fatto la fusione e tutte cose Tanti cambiamenti anche su Meeting Meeting Sì ok Dov'è la frontiera? Guaa Abbia la porta Allora Qui c'è una Ah Pregato Prendi tutto Eppure io prendo Stronzo No tu non puoi prendere Ho preso Stronzo Ecco ragazzi Dopo questa uscita Yes Su un letto Andiamo a chiudere la missione Andiamo a tutti Andiamo a tutti Yes Tutti Tu Vedo mai che il mio microfono Si sente il tono Della mia stanza Ma siamo usciti Ma siamo usciti Siamo usciti Dalle foglie Completa l'impresa Questa la prendiamo la prossima Anzi la prendiamo le calcagne Sì la facciamo La prossima episodio Quindi ragazzi Chiudiamo l'episodio qua Mettete un mi piace Commentate Seguite la serie Che uscirà il martedì Il venerdì Lo scriverò nel video E uscirà Salve imprevisti gravi E uscirà quei giorni Imprevisti gravi Sono papà Tanto che Why the dish Fa il pavimento Il pavimento Il pavimento Sì Ok Questo episodio è tutto Ragazzi Ci vediamo alla prossima puntata Ciao